Ciao a tutti, siamo tornati dopo due mesi di pausa circa, per colpa di lei, perché purtroppo o per fortuna è iniziato il campionato e eravamo un po' in ritardo con la preparazione sia della macchina che del camion e quindi un po' l'officina nuova, un po' la macchina a corsa non ce l'ho fatta a fare i video, anzi sinceramente mi hanno lavorato tutti i sabati fino a tardi quindi era proprio impossibile e oggi parlando con Marco mi è venuto in mente, ho detto vabbè possiamo ripartire da un video super interessante che praticamente facciamo vedere come è fatto il cambio di una macchina a corsa vera e qui vedete abbiamo smontato il cambio su questa macchina rispetto a quella vecchia si riesce a togliere il cambio senza togliere il motore, quindi il motore l'abbiamo legato, c'è i supporti rigidi della macchina non è supportivo ma è proprio agganciato al telaio, ha un volano fisso e normalissimo con una frizione bidisco racing con le placchette in sinterizzato quindi questa è una vera macchina a corsa, il cambio vecchio c'era sia col DSG che col sequenziale era un bellissimo cambio perché aveva la Sadev però comunque su questa versione hanno fatto uno step in più giustamente per chi non ci conosce o comunque non si ricorda questa nostra macchina a corsa che è l'Audi RS3 LMS partecipiamo al campionato italiano TCR che praticamente è tra virgolette il campionato turismo italiano e adesso la macchina è ferma perché abbiamo un mesetto e mezzo di pausa prima della prossima gara quindi l'abbiamo smontata tutta, abbiamo un po' di danni e abbiamo approfittato per fare il controllo, il check generale della vettura tra cui soprattutto il cambio. Questo è un disperato, in due mesi, ora se vediamo da mangiare che almeno ci lascia liberi perché allora questo nostro cambio scomposto è uno Uland CFT200 che è il cambio trasversale prodotto da Uland che è una ditta inglese che ha sempre fatto cambi da corsa, è una delle più importanti al mondo anche perché ormai di ditte grosse che fanno cambi racing ce ne sono pochissime probabilmente si contano su una mano e principalmente in Europa Uland aveva anche montato, aveva fatto anche dei cambi per Formula 1 mi ricordo qualche Lotus dell'anno 80 col cambio Uland è comunque una ditta super famosa molti mi chiedono ma che differenza c'è fra il cambio da corsa e un cambio stradale allora è un discorso molto ampio però in pratica volevo far capire un concetto che è un po' assurdo però le macchine di oggi stradali sono arrivato a un livello che alcune volte hanno più cavalli delle macchine da corsa cioè se voi andate a prendere macchine GT, le macchine GT sono flangiate e praticamente la macchina di serie alcune volte c'è più cavalli di quella da corsa che è un po' assurdo quindi il motore a livello di affidabilità ai motori praticamente la corsa sulle macchine che utilizziamo comunque GT sono praticamente motori quasi stradali col cambio stradale a parte pochissimi esempi per dire noi avevamo un TCR col DSG che era un cambio che comunque sono riuscito anche a farlo funzionare per assurdo in pista o anche qualche Porsche o GT4 però nella stragrande maggioranza dei casi comunque se uno vuole ottenere il massimo dalla macchina da corsa bisogna mettere un cambio sequenziale come questo allora oggi parlerò solo dei cambi sequenziali perché se no si apre un mondo e diventa anche difficile da comprendere allora cambio sequenziale che poi farò vedere come è fatto considerate che fino praticamente a grandi linee fino a 20 anni fa c'era solo a leva quindi aveva il cambio praticamente manuale o si tirava o si spingeva praticamente o si metteva la marcia o si scalava la grossa evoluzione c'è stata a memoria non voglio confondermi però nell'89 mi pare Ferrari in Formula 1 aveva portato il primo cambio sequenziale però è comandato con le palette ed era mi sembra la Ferrari Nangel Manser la stata la prima che forse ha vinto anche al debuter se non mi ricordo non voglio dire stupidate però sono sicuro che la prima è stata la Ferrari da lì ovviamente già in Formula 1 hanno impiegato un paio di anni tutti ad aggiornarsi e come tutte le evoluzioni piano 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 sono arrivati anche su macchine tra virgolette da corsa un po' più comuni e ormai quasi tutte le vetture a parte quelle proprio low cost hanno il cambio con il paddle al volante e poi da lì ci sono state altre evoluzioni perché i primi erano principalmente elettroattuati quindi con un motorino elettrico che andava a spingere o a tirare a posto che farlo manualmente e successivamente quasi tutti hanno utilizzato il sistema d'aria e dopo spiego perché allora il cambio sequenziale principalmente c'è sempre stato sulle moto perché alla fine è nato da lì perché la moto comunque ha dei carichi, dei pesi inferiori quindi era molto più semplice farlo funzionare cambi manuali sono partiti dal cambio classico senza sincronizzatori poi sincronizzato e fino a finire doppia frizione eccetera eccetera però fondamentalmente quando uno mette la marcia questo è un DSG però come se fosse un cambio meccanico la marcia gira quando uno mette la marcia manualmente innesta lo scorrevole quando lo scorrevole si sposta vedete che sta già frenando che io faccio fatica perché c'è un sincronizzatore che va a praticamente frenare la marcia la prepara alla velocità che serve fino al punto che si innesta e questo è in pratica il metodo più praticamente più fluido e tra virgolette più confortevole per fare un cambio meccanico e ovviamente nel momento che si stacca si deve cambiare marcia si schiaccia la frizione dalla seconda per dire si toglie il pomello si mette in terza lui in terza praticamente sta già ha già frenato la marcia quando voi mettete in mezzo il pomello la sta già e spingete sulla terza lui sta già frenando la marcia mettete in terza la innesta lasciate la frizione e praticamente avete fatto il cambio di marcia questo invece è il cambio sequenziale allora prima di tutto ha i denti dritti vedete che denti grossi che ha rispetto all'altro perché l'altro è un cambio praticamente stradale i denti sono inclinati in modo che ogni giro nel punto di aggancio si aggancia sempre almeno per dire due o tre denti perché essendo inclinato se ne agganciano di più che uno ha i denti dritti quindi avete meno rumorosità è un po' più fluido nel movimento ed è un cambio stradale anche perché se voi sentite i video anche i camera card e macchina corsa sentite che comunque urla il cambio sentite che proprio fa un rumore fortissimo e perché ha i denti dritti ovviamente si aggancia un dente alla volta fondamentalmente però sui cambi sequenziali a leva in pratica succedeva questo questa è la prima io c'ho ingranata la prima nel momento che tiro la leva in pratica adesso non si vede c'è un meccanismo che è calibrato che ogni tiro a leva lui gira e praticamente va a innestare la marcia superiore comunque sgancia la prima e butta la seconda come fa a innestare la seconda? non ha più sincronizzatore però se vedete dentro vedete che ha dei dentini e c'ha tanto gioco cosa succede? che lui va dentro si praticamente si deve agganciare allora prima di tutto c'è un cut off quindi bisogna mollare un attimino l'acceleratore o comunque lo fa in automatico quando si tira la leva togli l'acceleratore perché altrimenti la marcia non te la metteranno mai se uno prova i KZ e i gocaro da corso non ce l'hanno uno per cambiare marcia deve mollare un filo gas altrimenti la marcia rimane in presa e non ti dà possibilità di mettere la successiva comunque lui taglia un attimo sul cut off così si sgancia tra virgolette dalla prima marcia gira arriva qua e si innesta e ovviamente questo gioco lo sentite perché sentite quando si innesta è un bel caccio nel culo praticamente e la macchina per assurdo sembra che guadagna potenza perché ovviamente hai la minima dispersione quindi sulle macchine stradali ci sono alcune macchine che non fate col cambio sequenziale però è praticamente quasi impossibile usarla perché se voi siete al semaforo dovete partire in prima piano o comunque usate tantissimo la frizione se no appena schiacciate pam la macchina fa un metro in avanti quindi è impossibile da utilizzare utilizzo quotidiano a parte i track day secondo me ed è anche pericoloso e praticamente il sistema è questo come i cambi della moto però ovviamente sulle moto che sono leggeri era facile comunque costruirle sulle macchine che sono pesanti hanno un'impronta terra molto più grosso perché per dire noi usiamo le gomme che sono quasi da 300 ovviamente va a sforzare tutto in maniera molto più più forte perché se pensate le moto hanno praticamente una mi avevano detto che c'è tipo una come un pacchetto di sigarette in impronta della gomma praticamente il pacchetto di sigarette è sdraiato invece la macchina ha un'impronta che è così quindi è tutto un altro sforzo e ovviamente sulle macchine ci sono arrivati dopo più tempo cambiando materiali facendo evoluzioni particolari che invece sulle moto era un po' più facile gli scorrevoli vengono spostati dalle forcelle che sono comandati in questo caso dal gruppo ad aria che dopo faccio vedere e sul retro c'è un sensore di fase che in base alla rotazione lui riesce a capire praticamente quale marcia è inserita e te la indica sul quadro 1,2,3,4,5,6 questo è un 6 marce più la retro e cosa succede che la grossa evoluzione è stata passare dalla leva ai paddle perché ovviamente guadagni tempo perché comunque io avevo l'unica macchina che ho provato con la leva era la Clio 3 in pratica guidavi sempre con una mano perché comunque anche in curva se devi scalare e mettere e ovviamente passando ai paddle sul volante è tutta un'altra guida è più rapida è comunque anche più è meno divertente perché comunque con la leva è più bello però comunque più performante quello di sicuro successivamente sono passati agli attuatori elettrici un motorino elettrico che sparava in avanti o indietro che però avevano il problema che comunque rovinavano tanto i selettori perché praticamente c'è il selettore che ha un dente particolare che va a agganciare la marcia e più si spinge forte e più c'è la probabilità che praticamente si rovini e quindi era un po' il punto debole e poi tante volte non erano tanto morbidi successivamente siamo passati a quelle ad aria il vantaggio dell'aria è che lui dà il comando per innestare però l'aria è comprimibile quindi un po' viene attutito comunque l'urto dall'aria che è comprimibile rispetto comunque a un motore elettrico che tanto dà e tanto deve arrivare quindi il sistema dell'aria principalmente secondo me l'ha fatto per quello e il sistema dell'aria ci sono tanti tipi diversi il nostro per dire abbiamo un compressorino tipo l'eroma merlène dietro non si può dire no dietro il sedile un compressorino giriamo il quadro e carica l'impianto a pressione c'è un piccolo accumulatore e praticamente dopo quando schiacciamo lui il compressore tiene sempre alla pressione costante e infatti si ferma poi quando si utilizza un po' il cambio si scarica si ricarica e praticamente con l'aria che va a caricare con l'accumulatore quando andiamo ad attuare le leve al volante in pratica spara la marcia che decidiamo poi c'è anche una centralina che ovviamente ti limita anche magari la possibilità di far fuori i giri per dire se io sbaglio e scalo due volte lui non me lo fa fare perché dice cazzo stai facendo che c'è il motore già a 7000 giri lo spari a 8000 fai fuori i giri quindi anche quello è stato un grandissimo upgrade che hanno fatto invece con la leva se uno sbagliava scalava due marce praticamente faceva fuori il motore mi ricordo me lo dicevano anche sulle le super 1600 da rally che era un disastro noleggiarle perché era un motore tiratissimo tante volte i clienti magari non tanto pratici facevano una scalata un fuori i giri basta motore seccato tutti a casa e invece con quella tipologia di qua di cambio c'è una sicurezza in più ed è difficile fare comunque danni adesso facciamo vedere un po' proprio fisicamente come è composto il cambio perché sennò diventa è una cosa semplice ma diventa complicatissima se uno non lo vede allora facciamo vedere qui c'è l'albero primario il suo rinvio che è questo questo è il pignone l'albero secondario con il suo pignone che va a lavorare sulla coppia conica vedete che è denti diritti anzi cambia bellissimo anche come materiali trattamenti comunque il cambio si vede che è fatto bene cosa bella che adesso le campane nel cambio automatico lo fanno già da una vita però ci sono arrivati anche loro allora posso comettere la pasta che comunque un cambio da corsa si apre considerate che io il cambio lo apro ogni due weekend su 600 km io lo apro sempre cioè tanto senza magari senza aprire quella parte qua questa riesco anche senza smontarlo dalla macchina senza toccare la frizione però comunque lo guardo anche perché tante volte facciamo anche delle prove con oli differenti e mi piace vedere facciamo la foto e vediamo l'usura come è andata avanti in base al tipo di olio differente perché va bene il nostro lavoro quindi ci piace comunque sperimentare vedere qual è l'olio migliore eccetera eccetera comunque la cosa bella che hanno fatto l'OR che bisogna cambiare ogni volta non bisogna più mettere la pasta si mette sull'OR nuovo così anche se c'è in giro qualche goccia di olio non bisogna stare lì a diventare matti ad avere paura che bagni la pasta eccetera si monta col suo R ovviamente bisogna stare attenti perché i piani non bisogna aprirli come degli animali ma bisogna proprio stare attentissimi perché se uno va a scarpire il piano è fregato infatti loro hanno fatto una cosa intelligente hanno fatto un filetto vedete qua hanno fatto un filetto tu metti internamente la vite originale a viti e praticamente ti tira sulla campana questa è una chicca infatti sono stati bravi a farlo e su altri cambi invece non l'avevo visto invece loro comunque sono stati bravi di qui come ho fatto vedere prima c'è il gruppo leve forcelle col sensore di posizione e qua c'è la pompa dell'olio che poi spieghiamo questi sono due tubi che vanno al radiatore del cambio la retromarcia che è un po' il tallone d'achille di questo cambio e praticamente l'elettrovalvola con i comandi che praticamente arrivano dalla centrina per andare a comandare le marce in avanti e indietro e il differenziale differenziale autobloccante abbiamo già fatto dei video questo è un differenziale a lamelle ha le rampe che si possono decidere alcune opzioni e la cosa bella è che comunque il differenziale si può sganciare dal togliere dal cambio senza smontare tutta la trasmissione quindi anche perché sul differenziale soprattutto sulle nostre macchine trazione anteriore è vitale se il differenziale funziona male potete fare anche due o tre giornate di test e non concludete niente quindi differenziale comunque io personalmente è la cosa che controllo sempre e i chilometraggi ne fanno pochi purtroppo sono macchine un weekend di gara sono 300 km tante volte anche ogni gara la guardiamo oppure ogni due gare cioè nel senso sono chilometraggi bassissimi però la macchina a corsa è più performante più bisogna stargli dietro lavorando tanto sui cambi automatici comunque ho visto tante soluzioni anche su questo cambio che derivano comunque dalle soluzioni che hanno già fatto da tempo sui cambi automatici per esempio i campi vecchi avevano una pompa dell'olio che semplicemente spruzzava principalmente dentro il pignone per lubrificare i cuscinetti all'interno delle marce perché ovviamente girando per diminuire gli attriti o comunque cercare di sbattere l'olio in più punti possibili lavoravano così questo cambio per dire hanno adottato una soluzione che c'era già da tempo anche sui cambi automatici che praticamente c'è la pompa dell'olio lei gira c'è un filtrino tira praticamente l'olio non manda in pressione dalla pompa poi c'è un rinvio che praticamente da questa cannetta viene agganciata questa cannetta pratica così e cosa fa vedete che è tutto forato ha dei microfori che vanno a sparare esattamente tra i due ingranaggi proprio prima che i denti si tocchino quindi proprio una lubrificazione forzata ed è fighissimo perché comunque hanno fatto i fori calibrati che vanno proprio a sparare dove serve perché è inutile lubrificare gli ingranaggi dove non serve è meglio avere meno olio però spararlo nel punto corretto e successivamente va anche nell'altra campana e lo sparo all'interno del pignone per cercare di lubrificare dall'interno dove scorrono comunque le marce sul pignone e un forellino anche per il differenziale per cercare di mandargli olio al differenziale perché ovviamente la forza centrifuga è tanta quindi girando principalmente il differenziale cerca di sbattere l'olio all'esterno così facendogli arriva olio all'interno cioè praticamente spruzza all'interno per cercare di raffreddare le frizioni che è il problema principale del riscaldamento del cambio perché alla fine come sui cambi automatici è la frizione che va a rovinare principalmente l'olio perché ovviamente è attrito va a scaldarsi tantissimo nel momento che aggrappa tira sulle temperature rovina l'olio e quindi differenza d'autobloccante è la cosa più importante se funziona male differenza d'autobloccante temperature del cambio salgono più diventa liquido il cambio l'olio meno protezione fa gli ingranaggi e di solito quei cambi qua quando arrivano sopra i 130 gradi 135 gradi lo prendete lo buttate nel bidone perché praticamente è arrivato al punto che è come se gira secco e su cambi del genere fate dei danni mostruosi quindi io sono l'unico probabilmente sono l'unico l'unico stronzo che intanto guida piccato sulle gare in lunga durata sul rettilineo vado a vedere la temperatura del cambio perché io sono un malato di mente quindi intanto che guida mi guardo le temperature varie principalmente temperatura dell'acqua e temperatura del cambio anche perché se sei in una posizione che puoi vincere eccetera è un discorso ma se sono in una posizione arretrata e vedo il cambio che va a temperature assurde per qualsiasi problema preferisco fermarmi e portare a casa la macchina perché tanto non è che mi cambia tanto arrivare quindicesimo preferisco portarmi a casa al cambio e risparmiare magari 20.000 euro per dire perché le cifre sono quelle lì e basta il cambio funziona bene differenziale ha un po' di problemi però ha grandissime linee questo è il funzionamento del cambio sequenziale questo concettualmente è un po' la massima evoluzione del cambio sequenziale in MotoGP hanno fatto un cambio nuovo da non molto tempo che è Similess che in pratica perde ancora meno potenza nel cambio marcia perché è un sistema di innesto marcia diverso e quindi quella è proprio l'ulteriore evoluzione però di base concettualmente i cambi migliori sequenziali sono così attuati ad aria e ormai non penso che ci sia un'evoluzione a riguardo dei cambi sequenziali a parte quello della MotoGP ormai siamo arrivati nel senso è tutto tirato al limite anche soprattutto anche per dire su una macchina concettualmente che la possono comprare anche i privati in una macchina ufficiale quindi ormai l'evoluzione è quella e curiosità questo cambio ha un grosso difetto che fa ridere che è la retromarcia la retromarcia ha fatto un ingranaggio che praticamente è tiratissimo anche il sistema di innesto della retromarcia e quando noi abbiamo ritirato la macchina ci hanno detto la retromarcia non usatela praticamente ci hanno detto la retromarcia non usatela perché è delicatissima e dopo comunque smontando il cambio vedendo come funziona ho capito perché lavora proprio in una maniera strana su un cuscinetto quindi è già lì precaria in più hanno fatto anche un perno in alluminio per me l'ha fatto intelligentemente perché sanno che nel momento che in estate è forte la retromarcia piuttosto che evitare danni si spacca l'alberino per preservare il cambio però fondamentalmente la retromarcia su questo cambio è in pratica d'emergenza è come se non ci fosse la si usa solo in casi estremi che proprio non si può fare a meno quindi bisogna un po' dimenticarsela anche perché a me è capitato una volta arrivato in parco chiuso ho acceso la macchina ho schiacciato la frizione ho messo la retro la frizione non si è attaccata dolcemente ma pam mi è entrata dentro la retromarcia anche perché capita che ogni tanto come avete visto gli innesti magari sfiga non si aggancia ma rimane lì così voi pensate che sia dentro la marcia e poi pam la innesta di colpo quando muovete la frizione in pratica ma ha fatto una manovra stupidissima mi fermo metto in fuori e sento ho detto buono siamo nella merda infatti abbiamo dovuto tirare giù il cambio cambiare la retro che fortunatamente abbiamo trovato il pezzo l'ho sentito su dal meccanico mi fa che cazzo metti una retro mi è scappato però vabbè l'unico l'unico difetto è quello però comunque secondo me il cambio è ottimo c'è comunque un validissimo cambio a parte un po' differenziale che un po' di problemi una roba se no mi dimentico che la frizione ovviamente ha un cilindretto idraulico vedete c'è il cuscinetto col cilindretto idraulico all'interno quando staccate la frizione lui quando premete sulla frizione lui esce praticamente dalla sede con la forza idraulica che date sul pedale viene avanti e stacca la frizione e vabbè questi ormai tutti i cambi della corsa ce l'hanno poi vedete una cosa una curiosità io volo sulla la frizione che era da secondo me avrò fatto tanti chilometri cioè 1500 chilometri forse 1000 1500 cioè non l'abbiamo neanche lavata quella campana qua vedete che materiale praticamente non c'è niente perché mi ricollego al discorso che facevo che i materiali hanno fatto un salto in avanti incredibile e quindi tante volte lo spessore della frizione per dire si è abbassato di pochissimo però il materiale non fu più grip invece se toglieva quando toglievo i cambi di altre macchine a corso un po' più vecchie quando c'era la frizione cotta finita toglievi la campana praticamente era completamente nera perché comunque aveva tanto materiale di usura invece adesso lavora tanto la chimica quindi fargli dire che una frizione a cambiare che alla fine c'era la campana pulita però anche con le pastiglie freno stessa roba con i ferodi hanno fatto anche loro dei salti cioè dei passi da gigante tante volte la pastiglia lo spessore c'è ancora ma non frena più perché ormai è finita come anche con le gomme cioè alla fine negli ultimi 15 anni se voi prendete un cambio di 20 anni fa quello che è andato avanti tantissimo sono i materiali ecco i materiali ne hanno gli indurimenti i trattamenti soprattutto i materiali di attrito quelli hanno fatto un'evoluzione pazzesca spero che questo video vi sia piaciuto video molto tecnico per sicuramente gli appassionati di corse avranno apprezzato e ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti.